Per essere un buon silvicoltore è necessario avere abilità manuali ma anche capacità tecniche con un forte senso di responsabilità e grande resistenza fisica, valutando sempre eventuali pericoli o prevedendo gli infortuni. Tutte queste caratteristiche corrispondono a Salvatore Palmieri Di Marco e a Corrado Tombari con la Paxili Legni assituata a Manziana, ditta che ormai da anni si occupa di silvicoltura e attività forestali. Con grande tenacia e forza di volontà, ma soprattutto la passione per questo lavoro, l'azienda è cresciuta a livelli esponenziali, riuscendo ad offrire molteplici servizi. Potature di alberi ad alto fusto con l'utilizzo di piattaforme aeree, trinciature di terreni agricoli, recinzioni per vaste aree ed innumerevoli altri servizi possono essere, offerti grazie all'ampio parco mezzi da lavoro a disposizione. L'attività boschiva è predominante, dalla quale la ditta ricava la legna da ardere per i suoi clienti. Il lavoro professionale è alto, anche grazie il valido supporto di collaboratori come Cristian, figlio di Salvatore, che egregiamente calca le orme del padre. Con la semplicità che li contraddistingue, Salvatore e Corrado ringraziano coloro i quali si applicano con dedizione al lavoro dell'azienda Paxili, perciò grazie a Cristian, Simone, Mirko, Daniele, Stefano, Ray, Danilo, Patrizio, Massimiliano, Vasil e molti altri che hanno percorso lo stesso cammino. Viva la Paxili Enterprise! Grazie a tutti!